Si è rinnovata anche quest'anno la tradizione del concerto di Natale nel reparto di pediatria del Coro Arcobaleno, diretto da Cristina Torselli. Un modo per allietare l'adegenza dei piccoli pazienti che dovranno passare le feste in ospedale. Tra l'altro è stato il primo concerto natalizio del coro al nuovo San Luca. I bambini e i ragazzi dell'Arcobaleno non hanno deluso le attese, intonando brani che hanno rievocato il mistero della Natività. Tanto tempo fa, molto più bella di mamma mia, tanto tempo fa, nella sua casa stava lì, quando l'angelo apparì. Ora mamma, sei la mamma, la mamma di Gesù, tra tante donne, tra tutte quante, sei stata scelta tu. Ma a casa e pura rimarrai, una fanciulla resterai. Nascerà il reggere, figlio del Signore. Nascerà il reggere, che porterà l'amore. E luce porterà, e poi ci salverà. Oltre al concerto ci sono altre iniziative in pediatria. Questa mattina c'è stata la visita ai piccoli ospiti del Babbo Natale del Lambretta Club Lucca. E domani mattina, giorno di Natale, alle 11.30, la pediatria sarà animata dai piccoli folletti volontari della Croce Rossa Italiana, sezione di Lucca. Papi fanciulla per la Giuda, la mamma di Gesù, e così si fece donna, e divenne la Madonna. Nascerà il reggere, figlio del Signore. Grazie a te, Signore.